Ciao Marcello, ciao a tutti gli amici Juventinazzi, fratelli bianconeri di ToppoLand. Juventus-Sampo, caro Marcello, 4-1, una buona Juventus. La Juventus, per l'ennesima volta, i ragazzi ci dimostrano che quando purtroppo perdiamo, come è capitato con l'Inter e con il Milan, dopo però reagiamo alla grande. E quindi questa è una cosa molto, molto positiva. Contentissimo per il gol di Marione Manciukic, finalmente Super Mario si è sbloccato e ha fatto anche una buona partita e mi ha ricordato il Manciukic dell'anno scorso, Marione che lotta su tutti i palloni e che in zona goal finalmente la butta dentro. Contentissimo anche per la doppetta di King Kong e di Giorgio Nechellini, ottimo rientro anche il suo. L'unica nota negativa è il mancato gol del Pipita. Gonzalo forse sente la mancanza di questo gol, però a me non mi è dispiaciuto come ha giocato il nostro Pipita. Si impegna e secondo me ha fatto una buona gara e speriamo che il gol se lo sia conservato sabato contro il Napoli, perché poi se segnerà contro il Napoli sabato è ancora di più una doppia coluria. Quindi ora grande concentrazione per la partita di sabato contro il Napoli. Partita non facile, ma noi siamo la Juventus, siamo i più forti ed è una partita che dobbiamo vincere. Ripeto, dobbiamo vincere. Detto questo, sono contento della prova della Juventus, avanti così. Abbiamo dato una bella dimostrazione al campionato, facendo capire che un incidente di percorso può succedere, come è successo a Milano, ma alla fine siamo i più forti. E niente, sono contento anche della sconfitta del Milan, perché comunque hanno fatto la partita della vita contro di noi, però sono andati a Genova, hanno preso tre pappine e quindi non nego una goduria per questa sconfitta loro, anche se noi siamo nettamente più forti e quindi non è una squadra che mi preoccupasse. Però quando perde il Milan e anche l'Inter, a noi fratelli bianconeri ci va sempre piacere. Quindi ora concentrati per la partita contro il Napoli. E l'ultima cosa, caro Marcello, una grandissima emozione per il rientro del nostro principino. Il principino Claudio Marchese ha fatto veramente una buona gara, mi è piaciuto, ha recuperato palloni, ha fatto delle buone giocate e questo dimostra come la sua assenza per noi è stata importante. Ora speriamo che il principino trovi sempre di più la condizione, ma una grande emozione, il suo rientro in campo e veramente siamo molto molto contenti che sia tornato in campo. E ora vogliamo il principino sempre e comunque titolare. Detto questo, caro Marcello, saluto a te e fino alla fine, Forza Juventus!